Dopo la ripartenza dell'anno scolastico, gli istituti torrisi stanno mettendo in pratica tutte le misure di prevenzione per una didattica sicura. Questa mattina, con le telecamere di TV City, siamo stati all'Istituto Colombo per ascoltare la dirigente scolastica Lucia Cimmino. Ingressi scaglionati e didattica digitale integrata, per evitare assembramenti e rischio di contagio da Covid-19. L'emozione è stata tanta, ma soprattutto è stata un'emozione da parte dei ragazzi. Rivederli dopo questo lungo periodo è stato veramente un momento particolare, sia per loro che per noi. Però noi abbiamo previsto un piano di presenza, proprio perché anche se non abbiamo ancora le aule a disposizione e non abbiamo la possibilità di averli in futuro tutti in presenza, in questa fase di accoglienza abbiamo deciso di creare un piano di presenza per far sì che i nostri ragazzi, a giorni alterni, siano tutti presenti a scuola. Perché volevamo di nuovo ripristinare quel momento di normalità, ma soprattutto ripristinare il rapporto con i loro docenti e con la scuola, perché io penso che il distanziamento fisico che ci deve essere per il diritto alla salute però non deve diventare anche un distanziamento sociale e per questo abbiamo cercato di riportarli tutti a scuola, creando anche dei momenti particolari. Abbiamo dato loro delle indicazioni sulla sicurezza, come si dovevano comportare, abbiamo detto come dovevano stare nei banchi affinché non venissero spostati per il distanziamento appunto previsto dalla legge e poi abbiamo dato loro delle borracce che ci sono state donate dalla Banca di Credito Popolare per far sì che loro avessero meno momenti per transitare nella scuola. Queste sono state le prime fasi dell'accoglienza. Successivamente adesso stiamo cercando di ricreare una normalità didattica attraverso un'attività che sarà svolta in parte in classe in presenza e in piccola parte gli alunni saranno in DAD. Che anno scolastico sarà secondo lei? Sarà un anno particolare ma soprattutto sarà un anno dove io ho detto ai docenti che bisogna avere flessibilità e elasticità. Dobbiamo adeguarci alle situazioni ma soprattutto prendere le decisioni a secondo delle cose che si verificheranno. Noi siamo decisi nel far sì che i nostri ragazzi vengono a scuola tutti i giorni in presenza evitando per esempio per le prime e le classi quinte la didattica a distanza. Per le prime perché riteniamo che sia opportuno che il ragazzo frequenti tutti i giorni e s'affizioni soprattutto alla scuola ma soprattutto inizi un suo percorso che è quello della scuola superiore in particolare nel nostro istituto che prevedono molte attività laboratoriali noi abbiamo bisogno della presenza degli alunni come pure per il quinto anno perché dovranno affrontare l'esame di Stato. Per le altre classi intermedie abbiamo previsto un piano di presenza e con piccoli gruppi in DAD. La situazione del mio istituto tutti la sapete. In questo momento però il doppio ingresso, il doppio istituto perché avendo due sedi io ho potuto creare diciamo sia un'alternanza nelle entrate e nell'uscita e sia la possibilità di dividere i gruppi e quindi difficilmente, da noi è difficile creare l'assembramento. Infine la preside riserva un plauso ai suoi alunni per i comportamenti irresponsabili dopo i primi giorni di scuola. Io sinceramente sono rimasta sorpresa dai miei ragazzi perché devo dire la verità io sono contenta per come si stanno comportando perché veramente loro hanno compreso il momento, hanno capito che devono mantenere il distanziamento, devono frequentemente lavarsi le mani, devono portare la mascherina e devo dire la verità sono sorpresa perché ero un po' preoccupata in quanto la mia platea è tutta maschile ma si stanno comportando da veri soldatini sinceramente ma diciamo da futuri allievi ufficiali. Grazie a tutti.